che l'abbiamo full maxata la signorina ascelle abbiamo preso anche il doppio gadget da finiamo questo era anche 25 purtroppo dobbiamo farlo in solo sopravvivenza perché le mappe di oggi vi giuro che fanno pietà in trio a parte il fatto che c'è un sacco di mutazioni nelle varie cose quindi raga per oggi ci tocca farlo di nuovo in sopravvivenza come max in un'eternità più tardi potrei venire proprio chill ho tantissimi ho tantissimi non ci credo dove vai adesso dove vai adesso raga ne ho 6 ho tantissimi 7 comunque non per dire e c'è il qua potrei raga la potrei winnare proprio easy il problema è che non so dove sono eccoli ok questo fatto ma da vicino con nove gear forse me lo potrei faitare non sono sicurissimo di questo però me lo potrei faitare sì assolutamente bombato 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 si sta buono buono ma ancora qua e ho top 4 va bene chi hai allora c'ho leon leon colt bo brock buzz maxin e non so mi ricordo c'è otto ne ho ma te li faccio vedere comunque eh quasi ci sta non ve li faccio vedere i miei rank 25 raga tranquilli i miei rank 25 sono questi sono maxin edicar mr p leon bo buzz brock e colt e shelly ce l'abbiamo quasi rank 24 bella 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 ho due gear sono davvero pochissime dove cavolo dovrei andare con due gear non ho capito io sono scarsa sono 201 sta ci sta io mi sa che il massimo più di top 3 non riesco a fare sta partita ho fatto un sacco di danni e mi sa che il top me la sono me la sopportata invece eh vabbè ci sta più di top 2 non potevo fare raga più di top 2 non potevo proprio fare però ci sta buono eccolo qua rank 24 manca pochissimo al rank 25 raga potrei goderci godo oggi perdiamo tutti i gare la guiniamo raga tranquilli che la guiniamo fermi fermi nooo ho sbagliato raga oddio l'ho winnata come è possibile oh mio dio era anche qui era anche 25 e ne ho 8 questo è il nono che stiamo facendo let's go raga un battle bro calma chill ma dove sono questi raga conosco gente 40 oh l'ho visto eh l'angelino qua no raga non so dov'è Cody bruttissima situa lo prendo io sto gear mi ha distrutto si stiamo cucinando stiamo cucinando dai va bene 7 e 21 raga ultimi 3 game fatti bene ci portiamo questo nono rank 25 nono rank 25 no raga era one hit no raga è impossibile era letteralmente one hit andiamo mi depadda non mi trovo a quanto stai manca poco 7 e 17 3 game mi manco dai c'è solo un gear ragazzi vedevo andare è morta quella no buonissimo ci coda ci coda proprio forte da potrà fa niente 7 e 23 va bene è fatta stramale è fatta stramale mia 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 questa mi ha scoppiato c'è allucinante ero sicuro di potercela fare ma mi ha scoppiato volo non muore raga non ci posso credere raga dai però c'è un bastardo e allora sei bastardo allora sei bastardo c'è solo a me oh raga solo a me ha push shot ce n'era uno che era uno di vita ha push shot me raga sono in tre che non si fai da no raga erano in tre che non si fai davano raga erano in tre che non si fai davano ma l'unica è rimasta questa calma meglio teamare che camperare ah si infatti hai ragione ragione tu tu sei il classico il classico player che si mette a camperare si che si mette a a teamare senza senso proprio no niente raga la sto tenendo non so nemmeno io come vi giuro non so nemmeno io come la sto tenendo vi giuro è una cosa praticamente impossibile non so ne oddio l'ho tenuto sconto finale raga mamma mia mamma mia qua che play mamma mia let's go non so nemmeno io come l'ho portato a casa dai che siamo siamo un game del rank 25 chi lato let's go top 6 raga siamo vicinissimi dai raga ce la potremmo fare non ci credo raga let's go no let's go raga mamma mia muore dallo spike eh sono morto dallo spike oh mio dio raga che play raga ce l'abbiamo fatta eccolo qui è arrivato il nono rank 25 della storia di questo account eccolo qui mamma mia raga ciao 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 ciao